Qui facciamo finta che c'è buccia il mare Ah vedi qui ci sono due cose Ci facciamo un po' d'ambiente Vedete che io sto facendo sempre il riferimento A questo punto perché qui dove ho messo la bandierina C'è il punto di fuga sull'orizzonte Quindi tutta la Tutta la prospettiva di questo posto Me la regolo su quel punto lì Qui non so che sono Questo va così Ora vedi così Così anche qui Questa è il punto di fuga sull'orizzonte Questa è il punto di fuga sull'orizzonte Ok Adesso torniamo Adesso che mi sono divertito Torniamo Alla barca Intanto posso pulire tutto Sì E così Leviamo pure la barca di profilo Adesso Adesso Cominciamo a mettere un po' di Chiaroscuro Chiaroscuro Di un po' di Il po' di Il po' di Il po' di E qui di nuovo ci metto un po' di scuro. Ok, qui c'è ombra. Qui mi sembra di capire che la luce arriva d'acqua perché qui si schiarisce mentre qui è più scuro. Ma che noia. Non è neanche la prima volta che lavoro. Continuiamo domani.